Una operazione per il contrasto dell'evasione fiscale per recuperare ricavi occultati al fisco da parte dei finanziari della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale di Cagliari. Le fiamme gialle hanno portato a termine una verifica fiscale nei confronti di una società di Selargius che opera nel settore di ILE che non ha dichiarato per l'anno di imposta 2016 ricavi per 137 mila euro. I controlli della Guardia di Finanza hanno portato all'individuazione della società grazie all'incrocio dei dati riportati nelle dichiarazioni del reddito dell'azienda e il volume d'affari reale ricostruito attraverso la banca dati in uso al corpo. La società di ILE di Selargius, secondo quanto accertato alle fiamme gialle della seconda compagnia, aveva eseguito numerosi lavori per i quali aveva ricevuto pagamenti con bonifici al fine di consentire ai clienti privati le detrazioni previste. Ma i finanziari attraverso l'analisi dei versamenti in entrata con quanto scritto nella contabilità della società hanno scoperto che non tutti erano stati annotati nella documentazione contabile, da cui la ricostruzione dell'effettivo volume d'affari della società per l'annualità 2016 che ha portato ad accertare ricavi non dichiarati per 137 mila euro e un'evasione dell'IVA per oltre 950 euro. La verifica si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione dell'attività di pulizia economica e finanziaria disposta dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività che è condizione indispensabile per il raggiungimento dell'equità sociale e conferma l'impegno quotidiano delle fiamme gialle nel territorio di propria competenza a tutela della legalità sotto ogni veste.